Al Romeo Neri di Rimini in programma la quinta giornata di campionato di serie di Girone D. I biancorossi di Gaburo ospitano il progresso che nel mese scorso il Coppa Italia provocò proprio l'uscita di scena da parte dei padroni di casa. Nel turno infrasettimanale entrambe le compagini hanno ottenuto tre punti, il progresso a domicilio con i fanfulla e Rimini in esterna sul campo del Forlì. Arbita la gara il signor Macorin della sezione di Pordenone. Prima dell'inizio del match Rimini consegna la maglia ufficiale al nuovo sindaco della città e non ci potrebbe essere che migliorare i sordi in quanto il campo. Rimini in maglia verde domina fin da subito. Solito 4-3-3 per l'interprete di Gaburo, 4-3-1-2 per Moscarello ma gli schemi saltano fin da subito. Greselin metà a cento questo traversone Celeste S di Pugno allontanando sul piede caldo di Gabbianelli che da posizione favorevole buca la retroguardia ospite. 1-0 per il Rimini. Il progresso non riesce a rendersi pericoloso. Questo appoggio di Damuri per Badiali rappresenta le difficoltà del rosso-blu quest'oggi. Un giro di lancette e Tanasa dall'altra parte chiama la deviazione in corner Celeste. Al quindicesimo la partita può definirsi chiusa. Dall'angolo il progresso regali contro piede a Rimini. L'ex-Entella Andreis vola sulle ali dell'entusiasmo. L'esterno ringrazia e perfora per la seconda volta i rosso-blu che devono alzare bandiera bianca permettendo al giocatore di andare a festeggiare la rite sotto la curva con i propri tifosi. Il tris è questione di quattro giri di lancette con Ferrara pronto alla deviazione vincente per il 3-0 del Rimini. La macchina da godi Gaburro funziona perfettamente e non potrebbe essere altrimenti vedendo il potenziale a disposizione. Lo stesso Ferrara in chiuso di tempo spaventa Celeste con una punizione che avrebbe meritato miglior sorte. Grecia e l'intra i migliori si avvame in cali il pallone del 4-0 ma il tentativo dell'attaccante viene stoppato dalla difesa ospite favorento l'intervento di Celeste. La ripresa inizia come da copioni di prima frazione. Grecia rinva subito al tiro, Celeste risponde presente. È la volta di Mencagli che prova a sbroccarsi in tutti i modi. Qui Celeste in uscita chiude ottimamente lo specchio della porta. La replica del progresso è affidata al solo Badiali che chiama l'intervento Marietta. Il Rimini arriva facilmente alla conclusione. Ancora Mencagli protagonista. L'attaccante non inquadra il bersaglio. Dall'altra parte ci prova da muri ma il suo tiro termina a lato. Finalmente arriva l'ora di Mencagli. Servito in area da posizione defilata, l'attaccante trova il poker incognizando una giornata perfetta per i biancorossi. Successivamente arrivano due tentativi dalla distanza. Da una parte Tornelli cerca di beffare Celeste e dall'altra esposito calcia alto. Il Rimini da punizione cerca la cinquina. Gabionelli appoggia per Tomasini. Celeste c'è. Dalla bandierina da muri di testa spedisce a lato. L'ultima occasione sulla guadagna Gresselin. Sicuramente il migliore in campo a questo punto ruba palla ma pecca in fatto di precisione. Il Rimini centra così la terza vittoria su tre a neri ottenendo la leadership del torneo seppure in coabitazione con il mezzo Lara.